Terra Amara. Anticipazioni di giovedì pomeriggio e giovedì sera del 22 febbraio 2024. Vap è confuso dal racconto di Betul e l'accusa di averlo drogato. Tuttavia, Betul ribatte negando l'accusa, e mostrandosi offesa dal fatto che Vap non ricordi la loro notte insieme, una notte che per lei è stata speciale. Ascoltandola, Vap si fa confondere e manipolare dalle parole di Betul, tanto da dirle di non offendersi, poiché lui ha una ferita alla testa che gli fa dimenticare alcune cose, ma le promette che ricorderà tutto della prossima notte che passeranno insieme. Nel frattempo, Zuleya si reca in ospedale da Uzum, comunicandole che è andata a prenderla per portarla a casa, confessando quanto le manchi. Poi, si rivolge a Gaffur, chiedendogli di preparare le cose di Uzum. Nel mentre, Zuleya si reca nella camera della donna ferita dagli uomini di Cholak, accertandosi che stia bene, e offre il suo aiuto a lei e al marito. Il marito rassicura Zuleya, dicendo che i medici stanno facendo tutto il necessario, e la ringrazia per l'interessamento, e per aver affrontato Cholak. La moglie aggiunge che Fikret e Mehmet hanno ricostruito le capanne, e ora sono molto più belle di prima. Zuleya torna da Uzum, che è pronta per andare, e stringe tra le mani la foto che le è stata regalata. Li raggiunge Aykut che dà il via alle dimissioni, e poi chiede a Gaffur come sta. Lui risponde che è difficile vivere senza la moglie e una sorella incinta, ma va avanti solo per Uzum. Quando tornano a casa, vengono accolti con gioia da Fadike e Lutfie, che dice a Gaffur che la bambina resterà alla villa. Con affetto, Lutfie e Zuleya si prendono cura di Uzum, e Zuleya esprime il suo senso di colpa per quello che le è successo, ma Uzum afferma che la colpa è di Mehmet, perché quando Zuleya voleva andarsene, Mehmet non glielo aveva permesso, prendendole la mano, e lei era andata lì per aiutarla. Zuleya spiega che Mehmet voleva solo parlare, ma Uzum le ribatte di non permetterglielo più. Zuleya le assicura che Mehmet non lo farà più, e che ora tutto è passato. Intanto, Cholak rimprovera il figlio per la sua incapacità, e di doversi servire di stranei. Poco dopo, lo raggiunge Vaap, affermando di aver seguito Zuleya, e scoperto i suoi punti deboli. I suoi figli e i contadini. I figli sono sorvegliati e inavvicinabili, ma grazie ai contadini possono colpirla. Cholak affida a Vaap l'organizzazione e la responsabilità del loro piano. Quando Chetin torna a casa, avverte intensamente la mancanza di Gulten, e le confessa quanto gli manchi tutto di lei, la voce e gli occhi. Poi, si reca sulla sua tomba, e le racconta che durante il giorno fa tante cose, ma non riesce davvero a vivere, e conta i giorni che mancano per poter essere con lei e il loro bambino. E piangendo, inizia a pregare. È sera, quando Akan si reca alla villa con un grande peluche, esprimendo a Zuleya la sua preoccupazione per Uzum, e il desiderio di farle un regalo. Quando Akan consegna l'orso di peluche a Uzum, lei gli dice che non lo vuole, ricordandogli il suo comportamento scortese verso Zuleya, quando le aveva tirato la mano. Akan spiega di averle preso la mano perché si era emozionato vedendola, e le voleva dire che l'ama moltissimo, e essere felice insieme a lei. Poi, le chiede se lo capisce, e se possono fare pace. Uzum, soddisfatta della spiegazione, risponde positivamente. Dopo che Akan ha salutato Uzum con un bacio, Zuleya lo accompagna fino alla macchina. Lui le confessa di essere consapevole dei suoi dubbi nei suoi confronti, poiché glielo ha confermato Fikret. Proprio in quel momento arriva Fikret, e dopo uno scambio di battute, Akan se ne va. Fikret le chiede se sia vero che Mehmet ha portato Uzum in ospedale. Zuleya conferma, e aggiunge che Mehmet era alla villa per portare un regalo alla bambina. Fikret decide quindi di comprare anche lui un regalo per Uzum. Nel frattempo, Chetin rimonta alla culla del suo bambino, e ripensa alla storia d'amore con Gulten, ripensa alle difficoltà superate all'inizio a causa della violenza subita da lei, al fidanzamento, al loro matrimonio felice, e ai momenti in cui hanno ascoltato emozionati il cuore del loro bambino. Contemporaneamente, Gaffur, seduto accanto a Uzum che dorme, ripensa alla sua sanie, e alla loro vita felice, completata dalla presenza di Uzum. È ormai notte, e Zuleya riceve una telefonata da un dipendente, Ekrem, che la informa del crollo del muro del mulino, e dei contadini feriti che sono in ospedale. Allarmata, Zuleya gli risponde che lo raggiungerà immediatamente. Purtroppo, Zuleya non è consapevole del fatto che Vaap lo abbia costretto a telefonarle, minacciandolo con una pistola puntata alla testa. Zuleya è molto preoccupata per ciò che le ha riferito Ekrem per telefono, poiché non sa che Ekrem ha mentito, costretto da Vaap. Velocemente, Zuleya esce di casa. E mentre guida lungo una strada deserta, si trova bloccata da un'auto. Da essa scendono Ozam, il figlio di Cholak e un altro uomo. Ozam la deride, poiché la signora di Chukurova gira da sola. Poi, inizia a colpire la sua macchina con una spranga di ferro, mentre il compagno la costringe ad uscire dall'abitacolo, le lega le mani, la imbavaglia, e la carica con forza nella loro macchina. Durante il viaggio, Ozam commenta che una donna non dovrebbe possedere terre, ma dovrebbe restare a casa con i figli. Aggiunge che ora, essendo vedova, Zuleya potrebbe sposare Cholak, che è ricco. Il compare gli fa notare che Mehmet Kara non permetterà che ciò accada, ma Ozam risponde che Mehmet non è nessuno, e che forse se la sposerà lui. Poi, si rivolge a Zuleya, deridendola sul matrimonio che le faranno fare, e afferma che non doveva osare sfidare suo padre Cholak, che potrebbe anche non ucciderla, a condizione che lei restituisca la sua terra, e si scusi davanti a tutta Chukurova, ammettendo il suo errore. Intanto, Fikret si reca a casa di Cetin e lo abbraccia. Cetin confessa di non riuscire a superare il dolore per la perdita di Gulten. Fikret lo esorta ad essere paziente, assicurandogli che col tempo il dolore si attenuerà. Poi, Fikret si lamenta del fatto che Akan sembra non perdere occasione per stare vicino a Zuleya. Ma ciò che lo preoccupa di più è che Mehmet è il socio dell'uomo che ha ucciso suo zio, e Zuleya dovrebbe impedirgli di entrare in casa sua. Cetin dice a Fikret che gli aveva consigliato di sposare Betul e dimenticare Zuleya, ma dopo la perdita di Gulten, ha capito che l'amore non si può abbandonare come un oggetto, poiché ovunque vai è sempre con te, e se Zuleya è ancora nel suo cuore, non deve arrendersi. Nel frattempo, l'uomo che accompagna Osam, con perfidia, suggerisce a quest'ultimo di fermarsi nella foresta per divertirsi con Zuleya, che è legata e imbavagliata, terrorizzata dall'ascoltare. Poco dopo, l'uomo ferma la macchina in una stradina in mezzo alla foresta, e dice a Osam di divertirsi, assicurandogli che nessuno potrà dirgli nulla, e deve insegnare a quella donna il suo posto. Quindi, costringe Zuleya a uscire dalla macchina, e la trascina verso il bosco. Tuttavia, Osam, timoroso, cambia idea, e chiede di riportarla indietro. L'uomo non è d'accordo ed insiste che deve farlo. Allora Osam tira fuori la pistola, costringendolo a riportare Zuleya indietro. Poi, avverte che, se il padre venisse a sapere delle sue azioni senza essere d'accordo, lo punirebbe severamente. Nel mentre, Ciolac è insieme a Vaap, il quale gli chiede come comportarsi quando arriverà Zuleya. Ciolac spiega che inizialmente dovranno fingere sorpresa, accusare il figlio di averla rapita, e poi scusarsi con lei, rimandandola a casa. L'obiettivo è far credere a Zuleya che si tratti di un errore di Osam, in modo che lei si fidi di lui. Poi, comincerà ad andarla a trovare, proponendo le affari da svolgere insieme, così tutta Ciocurova vedrà Ciolac sottomettere la signora. Poi, Ciolac avverte Vaap che Osam non è a conoscenza della messa in scena, così non potrà tradirsi, e rovinare il loro piano. Osam e il suo complice trascinano Zuleya davanti a Ciolac. Osam dice che è stato facile rapirla. E ora Ciolac può insegnarle cosa significa andare contro di lui. Ciolac, senza preavviso, lo colpisce e inizia la farsa, accusando Osam che non doveva toccarla. Ciolac lascia Osam stupito e sconvolto, picchiandolo duramente quando cerca di protestare, e ordinava Vaap di liberare Zuleya. In quel momento, Akan irrompe nel capannone urlando il nome di Ciolac. Zuleya gli corre incontro e si butta tra le sue braccia. Akan, accarezzandola, la rassicura che tutto andrà bene. Poi, chiede a Ciolac come abbia potuto rapirla. Ciolac attribuisce la colpa al figlio, e ricomincia a picchiarlo. Akan lo minaccia, e Ciolac gli dà ragione, scaricando tutta la colpa sul suo sciocco figlio. Osam, però, non ci sta. Estrae la pistola puntandola contro suo padre, e rivela che è stato lui ad ordinargli di rapire Zuleya e portargliela. Gli dice di vergognarsi, accusandolo di averlo messo in imbarazzo davanti a tutti. Poi, improvvisamente, punta la pistola alla tempia e si spara, togliendosi la vita. Ciolac si inginocchia accanto al corpo del figlio, piangendo, mentre Akan avvolge Zuleya in un abbraccio protettivo. In quel momento arriva la polizia, e il capo della polizia interroga Zuleya. Lei racconta quanto accaduto, poi Akan spiega la sua presenza, dicendo che era preoccupato per la lite tra lei e Ciolac, e l'aveva quindi seguita. Zuleya chiede ad Akan perché la stava seguendo se si sono lasciati, e lui risponde che era preoccupato, e che non si arrenderà mai con lei. Quindi, la porta via da lì, mentre la polizia inizia le indagini. Una volta giunti alla villa, Zuleya racconta tutto a Lutfi e agli altri, mentre Akan applica del ghiaccio sulla caviglia da lei eslogata. Poi, la prende delicatamente in braccio e la porta nel suo letto, raccomandandole di non muoversi. Akan le prende la mano, e lei gli dice di non rendere le cose più difficili. Lui risponde che merita di sapere perché non ha voluto sposarlo, a meno che lui non conti nulla per lei. Zuleya allora gli confessa di sapere che Kadir ha ucciso Fecheli, e gli chiede se lui è coinvolto nel delitto, poiché Fecheli era andato a disparta e aveva scoperto qualcosa su di lui. Akan le chiede se si rende conto di cosa lo stia accusando. Zuleya desidera la verità per eliminare ogni dubbio su di lui. Akan le assicura di non avere nulla a che fare con la morte di Fecheli, e le rivela che ha appreso solo ora che è stato Kadir. Poi, le fa notare che, se qualcuno gli dicesse qualcosa su di lei, non ci crederebbe, e le chiederebbe spiegazioni. La prega di fare altrettanto la prossima volta. Zuleya, sentendosi sola e costretta a difendersi da tutti, spiega che, quando ha scoperto che Kadir ha ucciso Fecheli, è stato normale sospettare di Akan. Gli chiede perdono, e Akan, a sua volta, le chiede scusa per averla messa nella posizione di sospettarlo. In seguito, Akan si incontra con uno degli uomini di Cholak, e lo ringrazia per averlo avvertito del rapimento di Zuleya. Gli chiede di continuare ad essere i suoi occhi e le sue orecchie, e lo ricompensa. Poi, l'uomo gli domanda se Vaap è malato di mente, poiché si comporta in modo strano. Akan risponde che ha dei problemi mentali, e non sta prendendo le sue medicine. Nel frattempo, Cholak piange guardando la foto del figlio che si è ucciso, riconoscendolo come un po' folle, ma pur sempre suo figlio. Lo raggiunge Vaap per comunicargli l'ora del funerale, e lo esorta ad essere forte. Cholak risponde che non può esserlo perché il figlio si è ucciso a causa sua. Fikret e Cetina prendono dal barbiere del rapimento di Zuleya, e subito si muovono per raggiungerla. Durante il viaggio in macchina, Fikret si lamenta con Cetina perché la zia non gli ha detto nulla. Arrivati alla villa, trovano Akan con Zuleya. Zuleya racconta loro che Osam si è ucciso davanti a loro due. Fikret, risentito, le chiede il motivo per cui erano insieme, considerando che lei lo aveva lasciato a causa dei sospetti. Poi, rivela ad Akan di aver scoperto che il suo socio Kadir ha ucciso Fekeli. Lo ha legato e rinchiuso in una capanna, ha piccato il fuoco, e gli ha lasciato un coltello per liberarsi, e così Kadir si è salvato. Aggiunge che Fekeli aveva scoperto che Kadir lo stava ingannando, e voleva riferirlo ad Akan, ma Kadir lo ha ucciso per impedirgli di parlare. Dopo aver ascoltato la storia, Akan si alza e se ne va, mentre Fikret dice a Zuleya che lo colpirà come ha fatto con Kadir. Akan si reca da Kadir, e gli rivela che Fikret e Zuleya hanno creduto alla bugia che gli ha raccontato. Poi, afferma che se lui vuole investire legalmente a Ciokurova lo appoggerà e cancellerà i suoi debiti. Kadir accetta soddisfatto, e poi parlano di Vaap. Kadir dice che non sa come gestirlo, ma Akan risponde che se ne devono occupare. Intanto, Lutfi è con Fikret e gli chiede se si è impazzito a fare quelle cose a Kadir, e se vuole farle venire un infarto. Fikret risponde che avrebbe voluto ucciderlo, ma non lo ha fatto perché non è un assassino, e non può uccidere nessuno. Tuttavia, promette che non lascerà che Kadir la faccia franca, e si vendicherà quando avrà le prove di ciò che Kadir ha fatto. Assicura a Lutfi che consegnerà le prove alla giustizia, e Kadir ne pagherà le conseguenze. Terminano così queste anticipazioni. Io sono Desi, e se volete, vi invito a iscrivervi al mio canale, per non perdervi i prossimi video. Un abbraccio, e ci sentiamo nei commenti, con i vostri pareri sulla puntata.